La dodicesima giornata del Girone F di Serie D mette di fronte Nero Stellati e Jesina. Peligni in cerca del primo successo stagionale. Marchigiani arrivati al Barbati di Pescina per muovere ancora una classifica in linea con i programmi di una tranquilla salvezza. I barroni di casa si presentano con Valente, Delgizzi e Ponticelli a formare il nucleo centrale di una difesa completata agli esterni Puglielli e Di Rosa. Mentre in mediana agiscono Capitan Vitone, Pacella e l'ex di turno Censori. In attacco spazio al tandem Isotti-Cicconi. Dall'altra parte la Jesina scende in campo con Pierandrei, principale riferimento avanzato supportato agli esterni Trudo e Cameruccio che incidono sulle corsie esterne di un folto centrocampo governato dal trio Magnanelli, Zannini e Parasecoli. La squadra di Gianangeli parte senza timori reverenziali in un match impattato davvero male dai nerostellati in svantaggio dopo appena due minuti quando Pierandrei supera parente con un colpo di testa che sblocca il punteggio. Nerostellati all'angolo come un Puglie suonato e Jesina che legittima il vantaggio, sfiorando il raddoppio prima con il tentativo di Cameruccio disnescato da Ponticelli e poi con un velenoso colpo di testa e l'attaccante Pierandrei. Al diciottesimo sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con la stoccata di Magnanelli che si imbrance contro la traversa della porta Peligna. Pallino del gioco nelle mani dei marchigiani che mantengono le giuste distanze tra i reparti recuperando palloni in grande quantità e ripartendo con facilità verso l'area nerostellata. La squadra di Di Marzio è assente ingiustificata in una gara che per gli abruzzesi doveva essere l'occasione da cogliere per accorciare il distacco dalla zona play-out. Solo timidi segnali dai Peligni, prima e censori a non inquadrare lo specchio della porta ospite, poi e i sotti a concludere senza creare particolari problemi all'estremo difensore marchigiano. Nell'intervallo Cone rileva Puglielli nei nerostellati, colpiti ancora in apertura di ripresa, quando è il centrale difensivo Gremizzi a trasformare il penalty che vale il raddoppio per i Leoncelli. Il primo cambio ospite vede l'ingresso di Margarita per Trudo, con la Iesina sempre pronta a pungere in avanti, là dove i nerostellati non riescono più a rompere il ghiaccio per un gol che manca ormai dalla quarta giornata. Nemmeno il doppio cambio sortisce gli effetti sperati da Di Marzio, che inserisce Di Ruocco e Verrocchi rispettivamente al posto di Valente e Cicconi. E' sempre la Iesina a mantenere le redini del gioco. La conclusione di Margarita trova l'opposizione di Parente, che capitola però sul colpo di testa di Giorni per lo 0-3, che di fatto chiude il match. I nerostellati ci provano inutilmente con un calcio piazzato di Vitone, che anticipa i quattro cambi ospiti arrivati tra il 73esimo e l'85esimo. Nel finale è ancora la Iesina a cercare il gol con Margarita, prima dell'ultimo guizzo dei nerostellati, che non riescono a trovare un gol che dall'altra parte viene di nuovo cercato dai marchigiani, che con pieno merito conquistano una vittoria praticamente mai in discussione e con la quale salgono a quota 17 punti. Delusione in casa nerostellati al termine di un match che rappresenta al meglio la classica situazione del vorrei ma non posso. Mister Franco Gianangeli, il trainer della Iesina, quest'oggi una vittoria costruita nelle prime battute dove siete andati in vantaggio, ma questo vantaggio lo avete legittimato con importanti occasioni. Poi avete coperto bene il campo senza mai rinunciare a proporvi e avete addirittura raddoppiato e poi triplicando, conquistando una vittoria meritatissima. Sì, devo fare un plauso ai ragazzi perché sono stati bravi, attenti e tutto sommato anche piuttosto ordinati. È una vittoria importante che ci dà fiducia, che ci dà serenità, tanti aspetti positivi, anche se, come ho detto poco fa ai ragazzi, non ci dobbiamo cullare sugli allori perché, torno a ripetere, è un campionato difficilissimo, ogni domenica è una partita in cui il risultato non è mai scritto e quindi può succedere di tutto. Oggi è andata bene, ripeto, una prestazione positiva, ci prendiamo le cose che sono andate bene, dobbiamo migliorare, però credo che siamo sulla buona strada per cercare di raggiungere quella salvezza che ci siamo prefissati a inizio stagione. Di Marzio, un KO pesante nelle proporzioni, certamente non è quello che si aspettava dai suoi ragazzi quest'oggi. No, devo essere sincero, è stata la peggior partita da quando abbiamo iniziato, non possiamo prendere un gol dopo un minuto a difesa piazzata, da lì giustamente è subentrata la paura, è subentrata la consapevolezza che le partite passano e giustamente gli avversari in questo momento fanno meglio di noi. Rispetto sia alla partita di Pesaro che alla partita di Pineto, nonostante avessimo perso la partita, l'abbiamo giocata, invece oggi soprattutto nella prima mezz'ora ho visto una squadra senza coraggio, una squadra con troppa paura, giocatori che non si facevano dare la palla tra i piedi, buttavamo sempre questa palla avanti, cosa che abbiamo preparato diversamente in settimana, poi gli episodi nemmeno ci aiutano, però devo dire che in generale la partita peggiore da quando abbiamo iniziato. Vedremo in settimana ancora una volta di ricompattarci, di capire i ragazzi dove effettivamente c'è da parte di alcuni questo blocco mentale, nella speranza che le prossime partite, ma già da oggi i punti cominciano a pesare e quindi mi sarei aspettato sinceramente una prestazione, una prestazione nettamente diversa. Ciò non è avvenuto e quindi dobbiamo parlarci e vederci negli occhi in settimana per vedere veramente chi ci crede a questo punto e chi non ci crede.